Rod gelataio vieni qua ci sei te al cinema sei al cinema sei qua nel film vieni a vederti Abbiamo fatto rumore no 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 suora ti prego ti prego non mi prendere non mi prendere no 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 E adesso prepariamoci a vedere l'ultimo filmato segreto di questo aggiornamento Carissimi amici è arrivato per il YouTube e oggi torniamo da Ice Cream dal nostro caro gelataio Perché c'è stato un nuovo aggiornamento nel secondo capitolo dove hanno messo dei filmati segreti Quindi che dire proviamo a vederli subito qua in questo video come sempre vi invito a lasciare qui sotto tantissimi like Se like che lascerete sarà pari Rod vi porterà al circo se invece sarà dispari Rod vi porterà al cinema Fatemi sapere qui sotto nei commenti dove vi porterà Rod iscrivetevi al canale con la campanella attiva così anche voi farete parte della panino family Ma adesso direi di partire cominciamo subito allora per fare questo video tra l'altro ho acquistato la versione completa di Ice Cream Quindi proprio per questo motivo vi invito a lasciare un bel like Quindi tocchiamo play direi per il momento di partire in normal E vediamo qua i nuovi finali che hanno messo Allora dicembre 1982 Ice Cream 2 ambientato nell'82 Come possiamo vedere qua vabbè ma tanto sto filmato ormai lo conosciamo a memoria L'abbiamo visto così tante volte che un giorno ce lo sogneremo pure Allora comunque tornando qua per vedere i nuovi filmati dobbiamo innanzitutto usare qua il computer Dobbiamo avere il telefono connesso ad internet altrimenti non si vedono Per forza il telefono connesso ad internet e anche per questo motivo che ho acquistato il gioco Così posso stare qua connesso su internet tranquillamente Allora vediamo qua il primo filmato Per vedere il primo filmato dobbiamo scrivere Horror Brown 1 In questo modo vi faccio vedere Prendi qua la tastiera e scriviamo Horror Brown E poi ci mettiamo un bell'uno Perfetto abbiamo messo qua Horror Brown 1 Quindi adesso dobbiamo uscire fuori E vabbè qua c'è sempre Rod che si porta via Liz Ciao Liz Ciao Ma prendi un gelatino pure per me Mi sa che non lo prenderà il gelatino per me Mi sa che non me lo prenderà Quindi schippiamo qua Prendiamo come sempre la copertina Adesso scendiamo subito sotto Dobbiamo entrare dentro qua il camioncino Anzi dentro un furgoncino E niente dobbiamo andare direttamente al cinema Quindi raccogliamo subito la mappa Modalità proprio veloce e rapido Su su raccoglie Vabbè però E vabbè Ce ne andiamo al cinema velocemente Prima che venga Rod Sì vai ce l'abbiamo fatta in tempo Ce l'abbiamo fatta in tempo Metto soltanto un po' più di volume Così anche voi sentite bene tutto quanto Questo possiamo pure esaltarlo Tanto è sempre lo stesso filmato E guardate adesso cosa sta caricando qua Horror Brown 1 Ok apriamo qua la porta Vediamo qua Ecco qui Possiamo notare qua Il trailer di Horror Brown 1 Compare qua su Ice Cream 2 No 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 Rod Non ci provare Devo vedere quel film al cinema Sono qua al cinema a vedermi un film Non a farmi rincorrere da te E insomma Rodino Insomma Oh che è sto rumore Ah è vero sono i tuoni qua del trailer Ok Rod non mi sta più vedendo E ora prepariamoci Guardatelo lì C'è Jay Il protagonista di Ice Cream 2 Il protagonista che io sto guidando qua Si trova qua nel film Nel cinema Sei contento Jay Sei diventato un attore Ed eccolo qua Jay Sarà su Horror Brawl Il gioco multiplayer Fatto dagli stessi creatori di Ice Cream Mister Meat e di Volnan Infatti in quel gioco Troveremo Tutti i vari personaggi Tra cui anche la nostra cara suoretta Che fra poco vedremo Horror Brawl Presto disponibile Quest'estate uscirà la prima beta Chiusa per alcune persone Spero di essere tra quelli Ma Cosa sta succedendo ora? Guardateli dietro Guardate di là Sister Madeline Evil Nan C'è la suoretta di qua Ciao suora Ciao Tutto bene Tutto bene Ti voglio tanto bene Tanto tanto bene Allora Il filmato finisce qua Ora però vorrei pure vedere Qualcosina qua All'interno del cinema Quindi spero di non trovarmi Rod E invece me lo son trovato Me lo son trovato E come? Ciao Rod Ciao Ciao Via 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 Corriamo 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 Nel frattempo lì Il video si sta ripetendo Ok Scappiamo 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 Veloci 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 Non dobbiamo farci prendere Dal gelataio No Dobbiamo farci prendere Da lui E vabbè Rod E vabbè Ma stavi andando di là Chiudi subito Quella porta Mamma mia Mamma mia E qua non si può girare In tranquillità Senza che Rod Mi venga a prendere Ok Rod non è più venuto di qua Menomale Menomale The Evil Nun Guardate qua C'è la sua retta C'è il poster Della sua retta Qua all'interno del cinema Va bene Adesso usciamo di nuovo Dalla partita La rifacciamo Ma questa volta Mettiamo Un altro nome Da mettere All'interno del computer Vabbè Ciao Rod Meno male Che me ne esco in tempo Meno male Lasciamo subito il gioco Adesso proviamo a mettere qua Un altro nome E vediamo Che cosa uscirà fuori Ok Scappiamo sempre qua Apri qua il computer Come prima E ci mettiamo Questa volta Come nome Vediamo cosa va messo Horror Brawl 2 Stavolta è il 2 E niente mettiamolo Quindi scriviamo qua Horror Brawl 2 Perfetto Vai Adesso scendiamo subito sotto E lì c'è Alice Di nuovo Che si fa acchiappare Ma perché Alice A quanto pare Ah è vero Per scendere Devo prendere la coperta A quanto pare Alice piace Sare preso da Rod Altrimenti Non spiegherebbe il fatto Che ogni volta Che gioco qua The Scream 2 Lei si fa sempre prendere Si fa sempre prendere Prendi qua la mappa Metti subito qua Via direttamente al cinema Mamma mia Proprio velocemente Devo fare Devo fare subito Velocemente Prima che Rod Mi veda Mi prenda O varie cose Altrimenti Devo stare qua Ad evitarlo E ora Sta caricando qua Il filmato di Horror Brawl 2 Guardatela lì La mela La mela di Mr. Meat E lì nel frattempo C'è Jay che sta correndo Questo è il sequel Del trailer Che abbiamo visto ieri Ok Guardatelo lì Jay che sta correndo Io mi guardo qua intorno Che non vorrei mai Che Rod Sbuchi qui fuori Forse mi conviene Farlo in modalità Fantasma Sta cosa Altrimenti Non possiamo vedere Qua i filmati Tranquillamente Ok Jay si è andato a nascondere Nell'armadio Bravo Jay Bravo che ti sei nascosto Ma ora Guardate ora Che succede Sta per avvicinarsi Jay si è nascosto Ma la sua retta L'ha trovato Eccola lì La suora Sister Madeline La madre di Rod Che adesso Sta per colpire Jay Ma Guardate cosa succede E' arrivata una mela addosso Qualcuno Le ha lanciato una mela Ed eccola lì Rebecca La figlia di Mr. Meat Sarà anche lei su Horror Brawl Il gioco multiplayer Dove ci sono tutti i vari personaggi E infatti la sua era tutta arrabbiata Ma resta per arrivare Un altro personaggio Attraverso quella tavoletta Un amico DJ L'amico che abbiamo salvato Nel primo capitolo Di Ice Cream Il nostro caro amichetto Charlie Anche se qua in realtà Non è tanto amichetto Ok Ho sentito all'improvviso Sta musichetta Mi ha preso un colpo Infatti Jay è tutto quanto contento Ma Aiuto Se ne sta scappando Jay Se ne scappa Via Con quel diamante Ma è comparso un bastone E' quel bastone Che usa il bambino Dalle mani blu Per sorreggersi Perfetto Horror Brawl Quindi ora è il momento Di passare Al terzo filmato Quindi usciamo come prima Facciamo leave the game Se questa volta Direi di farlo almeno In fantasma Altrimenti qua Sto a girarmi Ogni due secondi Sapete cosa sembra Quando uno vuole vedere La televisione Ma c'è la solita mosca Che comincia a girare intorno E uno sta sempre lì A distrarsi Per togliersi sta mosca Ecco Sembrava la stessa cosa Quindi tocchiamo play Facciamo stavolta fantasma Almeno così Possiamo muoverci Tranquillamente E stavolta scriveremo Come nome sul computer Evil Nan 2 Mamma mia La sua retta Evil Nan Proviamo a vedere Che cosa succede Sono molto curioso Su su vai qua Scrivi 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 Muoviti personaggio Muoviti Perfetto Allora Accedo il computer Un computer degli anni 80 Quindi è tutto normale Quindi Evil Nan 2 Tutto attaccato così Perfetto Vai E ora prepariamoci qua Prendiamo qua la copertina Possiamo fare stavolta con calma Tanto siamo in fantasma Siamo in fantasma E Rod non mi viene a prendere Meno male Ok metti qua la coperta Scendiamo subito sotto Veloce 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 Perfetto Voilà Si E ora prendiamo subito Qua la mappa Su su raccogli Raccogli Personaggio Tanto adesso Possiamo andare con calma Con calma possiamo muoverci Ce ne andiamo qua al cinema E adesso vediamo Il filmato collegato Ad Evil Nan 2 Quindi adesso vedremo di nuovo La madre di Ice Cream Però stavolta nel secondo capitolo In versione giovane Molto molto più giovane Perfetto Sta caricando Evil Nan 2 Origins Apriamo quella porta Vediamo Ok Sta caricando il trailer Il trailer di Sister Madeline Guardate lì Quella è la scuola Di Evil Nan 2 Dove è ambientato il gioco E quella è la foto di Elisa Elisa si trova adesso Anche qua su Ice Cream Nella serie del gelataio Mamma mia Eccola lì la suora Che sta parlando Ha finito di chiacchierare Ma ora se ne va via Dove se ne sta ramandando la suora Dove andrà mai E però adesso Lo sappiamo bene in realtà Dove sta andando Lo sappiamo bene Perché tanto ormai Sto gioco lo conosciamo Evil Nan 2 L'abbiamo visto ormai In ogni punto di vista Con tutti i video che ci ho fatto Sta andando all'interno Della sua stanza Infatti come ben sappiamo La suora Sister Madeline Aveva una figlia Che si chiamava appunto Elisa Quella figlia è venuta a mancare Quindi lei che cosa ha fatto Ha deciso di diventare suora Per dimenticare il tutto Ma il ricordo della figlia Lei è rimasta sempre qua in testa Dentro qua Non è più riuscita a toglierselo Povera suoretta Povera suoretta E mi dispiace per quello E tra l'altro Su Evil Nan 2 Possiamo anche assistere Alla formazione di Rod All'interno della pancia della suora Possiamo vedere proprio Nasrat Che genera Rod Mamma mia Quanti segreti Che ci sono all'interno Di questi giochi Quanti segreti Mamma mia Ma io quante volte Avrò detto mamma mia Durante sto video Ma vabbè Dettagli Lasciamo perdere Lasciamo perdere La foto di Elise Nel frattempo Si è bruciata La suora Niente Ha deciso di chiudere la porta Perché adesso va dal bambino Dalle mani blu Che sarebbe il personaggio Di Evil Nan 2 Eccolo là Vai suora Entra pure là dentro Entra pure là dentro E ora lei tutta quanta Arrabbiata Nooo Verso il bambino Dalle mani blu Perché lei si dimenava Cercava di far rumore Per scapparsene La suora giustamente Si è arrabbiata E diceva Stai zitto Altrimenti adesso qua Ti porto a giocare Con dei simpatici amichetti I polli mutanti Guardate C'è Gammy Gammy anche qua Mamma mia In Ice Cream Abbiamo anche Gammy Sarebbe bello rivederlo Di nuovo nei prossimi capitoli Questo pollo mutante Mi piacerebbe rivederlo Un peccato Che per ora L'abbiamo visto soltanto Su Evil Nan 2 E' veramente un bel peccato Nooo E li polli mutanti Che se la ridono Che se la ridono Di gran gusto Va bene Allora adesso Io però vorrei prima Vedere un'altra cosa Se io vado nel circo Sbuca per caso L'immagine Dei vari easter egg Che sto mettendo qua All'interno del computer No Voglio vedere così Una piccola curiosità Dopodichè cambiamo nome E mettiamo il nome successivo Ah no Che non lo sta facendo Non lo sta facendo Quindi allora Soltanto su Screen 3 Funziona la cosa Dell'immagine della copertina Va bene E' il momento adesso Di passare Al prossimo nome Da inserire All'interno del computer Quindi usciamo fuori dal gioco Facciamo leave the game Tocchiamo di nuovo play Ok questa volta Facciamo sempre fantasma Ma mettiamo come nome Broken mask Sapete bene Broken mask Che cosa è associato Giusto Lo sapete perfettamente E' associato Adivonand The broken mask La versione per pc del gioco Una versione che sarà fatta Molto meglio Rispetto a quello che noi abbiamo visto Attualmente sul telefono Quindi scriviamo qua Broken mask Ok Perfetto Prendiamo quelle copertine Su su prendi qua Raccogli raccogli Prendi qua le coperte Usciamo subito fuori Sì sì Solito filmato Come sempre Apri qua la finestra Ce le scendiamo sotto Prendiamo la mappa Ormai lo sappiamo perfettamente qua Sappiamo perfettamente Cosa c'è da fare Prendi qua Raccogli Apri qua dentro Metti qua Ce ne andiamo al cinema Come sempre Vai Non sono mai andato al cinema Così tante volte In tutta la mia vita Mai Ok Potremmo pure schippare Qua adesso il filmato che c'è Perfetto E ora Godiamoci qua Il filmato di Broken mask Guardatelo qua Mamma mia Sta per partire Sta per partire Oh Stiamo scappando via Della suora Vai 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 personaggio Ce la puoi fare Ce la puoi fare Questo ci starebbe bene Proprio come film Cioè un gioco di sta grafica Ci sta bene come film Spettacolare Oh Eccola lì La suoretta Sister Madeleine Ciao suora Ciao Ti voglio tanto bene Ti voglio davvero tanto bene E però lei non mi vuole bene La suora non mi vuole bene Abbiamo fatto rumore No 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 Suora Ti prego Ti prego Non mi prendere Non mi prendere No 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 È stato un piacere È stato un piacere E vabbè È andata così È andata così Quindi adesso proviamo con l'ultimo Nome Da mettere qua All'interno di Icecrime 2 Quindi usciamo di nuovo come prima E questa volta come nome Dobbiamo scrivere Kiplerians Il nome degli sviluppatori Del gioco Vediamo che cosa c'è fuori Vediamo qua Sono veramente curioso Perché mentre con gli altri nomi Noi abbiamo messo proprio i nomi dei giochi Questa volta mettiamo proprio il nome Kiplerians E non so di preciso che cosa potrà uscire fuori Non ne ho idea Quindi scriviamo qua Kiplerians Perfetto Apri qua la finestra Chiaradino Ciao Prendi qua le coperte Come prima Mettiamole qua E ora ce ne scendiamo sotto Andiamo qua Velocemente Su su Sono veramente curioso Sono veramente curioso Non vedo l'ora di scoprire Che cosa esce fuori adesso al cinema Cos'è Un filmato speciale di Kiplerians Un qualcosa di segreto Lo vediamo adesso E adesso prepariamoci A vedere l'ultimo filmato segreto Di questo aggiornamento Perfetto Stiamo arrivando al cinema Sta caricando Tinky Playians Che video è quello Nono seriamente Cos'è Che video è Allora Ha aperto un qualcosa Ah ma questo è il trailer di Ice Cream 4 Mamma mia Guardate qua Con il furgone di Rold Stiamo arrivando alla fabbrica del gelataio Bellissima sta cosa Spettacolare Sta entrando lì dentro il furgone E qua lo sappiamo bene Ora che cosa succede Lo sappiamo perfettamente Rold ci porterà All'interno di una sorta di prigione Ci porterà lì Mamma mia E cosa ci vorrà mai fare Rold lì dentro Cosa vorrà mai farci Tra l'altro Lì dentro Canta anche una seconda parte Di canzoncina Che la sto traducendo Quindi fra qualche giorno Preparatevi Perché vi porterò Il segreto Della canzone Completa di Rold Ok Siamo saliti qui sopra Rold ci sta portando Dentro da qualche parte Rold gelataio Vieni qua Ci sei te al cinema Sei al cinema Sei qua nel film Vieni a vederti C'è anche Jay Da notare che prima Jay Lo vedevamo su Horror Brawl Tutto quanto in modalità eroica Ve lo vediamo qua Su Icecrime 4 Tutto quanto rinchiuso In cella a prigioniero E povero Jay Povero Jay Su Guarda personaggio Guardati te nel futuro Sarai così Quindi fai attenzione Fai attenzione personaggio No Tutti gli amici Ciao Mike Ciao Liz Ciao Charlie E niente Non mi vogliono salutare Non vogliono salutarmi Ciao Liz Sei rinchiusa Nella cella Sia nel furgone E sia nel film Ma veramente Ma veramente È lì Rod Che se la ride Che se la ride per bene Ci porterà Fra poco All'interno di quella stanza viola Chissà che cosa c'è lì dentro Chissà Non vedo l'ora di scoprirla Io non vedo l'ora Che esca il gioco Che fra qualche mese Fra un mese circa Finalmente potremmo provarlo Ciao Rod Buona fortuna lì dentro Buona fortuna All'interno della Della stanza Qualunque cosa voglia fare E va bene Niente Questo qua era l'ultimo filmato A disposizione Che hanno messo all'interno Di questo gioco Di questo aggiornamento Quindi che dire Per il momento dire Di finire qua il video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Questa è il video Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo In un prossimo video E come sempre vi auguro Una buona giornata Buona giornata Una buona notte Ciao a tutti E buon panino totte Ciao a tutti Ciao a tutti